Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maullo941 e oggi siamo tornati su Monkey Island ragazzoli Intanto scusate per l'assenza, scusate per l'assenza ma piano piano riusciamo ora a ritrovare un giusto ritmo con i video giornalieri Allora ragazzoli, cosa facciamo in questo video oggi di Monkey? Intanto io vi ricordo di seguirvi anche su Instagram, anche se da un po' che non pubblico più niente Mi trovate come Maullo941 Ragazzoli, cosa facciamo oggi? Allora io mi sono un attimo rotto le palle di stare là, girare nella foresta che non trovavamo niente di niente E secondo qualche commento che ho letto, mi avete detto che devo andare da casa del commendatore Dove c'erano quei simpaticissimi cani che rompevano le scatole, quindi andiamo a casa del commendatore E di mettere i petali gialli se non sbaglio insieme al pezzo di carne che abbiamo Perché quando ho capito i petali gialli dovrebbero essere una sorta di drogo, una sorta di qualcosa di particolare E andargli a dare ai cani Tant'è vero che un pirata all'inizio effettivamente ci diceva che dovevamo drogarli in qualche maniera Ora voi mi avete detto di fare così e io faremo in questa maniera Vediamo se riusciamo a... Perché una t-shirt l'abbiamo trovata, quindi potremmo anche andare a parlare con i pirati Oh, ecco qua i nostri cani simpaticoni Vediamo cosa dice il nostro amico Non li avvicinò di certo Allora, allora, allora Usa, dare, guadagnare, tirare, raccogliere, schiudere, andare verso, spegnere Usa, usa il petalo giallo Con... avevamo... petalo giallo, pesce stufato No, carne stufata Carne condita Oh, siamo riusciti Quindi se io faccio ora, usa, carne condita sui cani Mamma, che pezzo di carne Stanno a mangiare tutto Tutti... mamma, mamma, che fame Oh, sono morti Drogati Grande avviso importante Questi cani non sono morti Stanno solo dormendo Nessuno di noi è stato fatto del male durante la produzione di questo gioco Spettacolo Va bene E allora entriamo, no? Possiamo andare in tutte le direzioni di qua sotto? Ci possiamo andare noi? No, non cambia niente E va bene, entriamo Andare verso porta Aprire Ci fa entrare? Oh, interessante Buongiorno, salve E qual è l'idolo? Andare verso il vaso Salve... questo che cos'è? Un prezioso Ming Salve... Sarei Tribble Bush Non riconosco l'uomo, ma ho un cappello fantastico Ci interessa relativamente Di qua cosa c'è? Possiamo andarci di qua? Oh, possiamo anche andare di qua E che c'è? Chi è quello? Questo sembra un lavoro per Forster Per Fester Scusami Zeo Fester Cosa è successo? Ma che cavolo? Mi sa che ci stiamo prendendo da pugni Ho preso un vaso Che... Mamma, che effetti sonori bellissimi ragazzi Effetti sonori di quelli che uno dice Va Non ho letto cosa spuntava sotto Bang, bung No, spingere Bang, spingere il tasso rosso Bang, andare verso Cosa sta succedendo? Stiamo distruggendo una casa Guardare Guardare lo yank tremendo E' un enorme brutto yank peloso Con le labbra di cera Ma io non sto toccando niente Sta facendo tutte cose da solo Da solo Spingere Spingere il tremendo yank Andare verso Non posso muoverlo Raga, non sto facendo niente Tirare Tirare il tremendo yank feroce Ma di cosa Non posso muoverlo Ma di cosa stiamo parlando? Cosa sta succedendo là dentro? Raccogliere Raccogliere il togli graffette Andare Il togli graffette Usare il togli graffette su Yank feroce Andare verso Siamo volati via dal quadro Abbiamo distrutto una parete Come abbiamo fatto? Vabbè Andare verso No Sta entrando di nuovo Dove sta andando? Raccogliere Il manuale dello stile Mi servirà Devo essere pazzo Decisamente Cosa sta facendo? No Addirittura è saltato Sopra il quadro E si è rubbottato dentro Cosa? Le labbra di cera Il manuale dello stile Il togli graffette I roditori Cosa sta succedendo? Raccogliere Raccogliere il repellente Per i roditori Repellente per i roditori Aspè Aspè C'era qualcuno che voleva Usare Usare che cosa? Usare il repellente per i roditori Con Il mio ragazzo Mi sto confondendo Usare Usare il repellente per i roditori Un branco di roditori Usare Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Andare verso Stiamo distruggendo una casa Guardare 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 l'idolo favoloso Attenzione E' bello E' bello Aprire Che cosa stiamo aprendo? Aprire la serratura Interessante Non posso aprirla Aia 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 Sembra molto Sai Questo lo dovrà fermare per un po' Questo lo dovrà fermare per un po' Cioè Se uscire da là Se solo avessi una lima Potrei prendere l'idolo Allora Aspettate un attimo C'era Se non ricordo male Il Che bella varchetta questa? Dentro il vetro Se non ricordo male Quello in prigione Che voleva qualcosa per i topi Può essere? Se non ricordo male Si Allora Via 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 Veloce Qua i cani stanno tranquillamente dormendo Nessun cane è stato maltrattato in questo gioco Ricordiamolo Per chi si sia collegato solo in questo momento Alla visione di questo video Io vi ricordo di iscrivervi al canale Di lasciare i commenti E di scrivermi tutto quello che vi passa per la mente Eh Sì Zio Dobbiamo andare Dobbiamo andare Dobbiamo andare in carcere Bello 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 Sei andato troppo Sei andato troppo Ok Andiamo in carcere Vediamo se gli diamo il repellente Dare Repellente per gli uditori Altizio Me lo ricordo? È giusto? Ehi Forse funzionerà con i topi Dai Era giusto Era giusto Grazie Prego Bello Eccoti la torta Torta Perché mi ha dato una torta? Usare Aprire Uh C'è una lima dentro Grande Tutta la mia stima Tizio Tizio Torniamo da quello Torniamo da quello Che avevamo bisogno della lima Per ottenere Per ottenere L'idolo Dai 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 Che completiamo questa parte Dai Dai Così abbiamo già trovato la caccia altesa Ora abbiamo trovato la maglietta Abbiamo trovato anche l'idolo Siamo riuscito a recuperare anche l'idolo Ottimo Dobbiamo semplicemente riuscire ora a Vai così Dentro E Se io entro nuovamente di qua Ci posso entrare? Questa porta sembra chiusa a chiave Di qua Ci riesce ad entrare di lì? Ho la lima Bravo Vacci Vai Touch Tonk Mi sa che sei ripreso lo sceriffo Usare Il manuale dello stile con Il tritatutto Ma cosa sta facendo Dare Dare i confetti di cast Al pagliaccio armato Andare verso Cosa sta succedendo dietro quella parete? Ouch Andare verso Gettare Gettare la lima Le labbra di cera nel fuoco Andare verso Andare verso Stiamo parlando di una corso ostacoli Usare La lima su Unghie di rinoceronte Cosa c'entra? Sentono sempre rumori più strani comunque Usare la lima sulla serratura Bravo Oh abbiamo preso l'idolo Touch L'idolo favoloso Ce l'abbiamo Mamma mia Stiamo ovviamente prendendo legnate Siamo volati Mamma Questo tra i voli dal cannone Che ci sbattono più Che pelo Almeno ho preso l'idolo Sì Riusciamo a scappare velocemente? No Non ho ancora finito con te Cat Questo sceriffo del cavolo Oh oh È tornato Bobo Natale Pensai di svinertela con l'idolo Dalle molte mani Eh Guarda posso spiegare Infatti Forest Come dire Fester Anch'io Stai calmo Zio Fester Stai calmo Ha avvelenato i cani del governatore No Stanno dormendo No 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 Stanno solo dormendo Infatti Infatti Non diciamo cose che non sono vere Hai fatto irruzione a casa sua Non è vero La porta era aperta Bravo Oh mira Gli suggerisco le risposte La porta nella richiesta chiave Bravo E hai rubato uno dei suoi oggetti d'arte più preziosi L'ho preso in prestito L'ho preso in prestito Poi lo restituisco No Stai sbagliando tutto Effettivamente Bravo Bravo Guido Bush Lì Oh davvero Negare sempre Beh Sentiamo le tue spiegazioni Eh niente La porta era aperta Le ho detto che Le ho detto Volevo solo prenderlo in prestito Volevo solamente prenderlo in prestito Poi lo restituisco Che c'entra? Che c'entra? Ah Porca Che sta succedendo qui? Chi è quello lì? Il commendatore È il commendatore Ha preso questo delinquente Che stava ridurrubando il tuo idolo governatore Gli abbiamo distrutto una casa Però va bene Limitiamoci al fatto che Dice che lo stava solo prendendo in prestito Lo restituisco Finito 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 Quello che devo fare È vero Gliel'ho prestato Ma che cazzo Cosa? Cosa? Mi hai sentito Fester? Ma di che stiamo parlando? La domanda da fare è Come ha fatto a entrare Mentre tu facevi la guardia La presenza coccia Fester Festerino Vai via Fester Sparisci Me ne occupo io Ottimo Uff Mi occuperò di te più tardi Forse Fester Forse Lo devi scusare È nuovo Va bene Nessun problema Sono il governatore Marley Piacere Il governatore Marley Non è proprio bruttissimo Allora Allora Lo stai soltanto prendendo in prestito Eh? Sì Sì Eh beh Bene Gosh Bene Bene Così Rilassati Signor Tripwood Come fa a sapere il nome? So perché sei qui Com'è che fa a sapere il mio nome? Credimi Non sei il primo Che abbia tentato Non sei il primo Che abbia tentato Sebbene devo ammettere che Mentre non molti Sono arrivati fin qui Oh Dai Ehm Cribbio Cribbio ci sta Cribbio La mia sentinella Mi ha avvisato Del tuo arrivo Sarebbe il cieco Praticamente Sul Ho voluto incontrarti Da quando ho sentito Il tuo nome affascinante Attenzione Attenzione Facciamo breccia Solo col nome Dimmi Ibrush Perché vuoi diventare Un pirata Perché Non è l'aspetto Di un pirata Ah no Questo non vuol dire niente L'abito non fa il monaco La tua faccia è troppo Aia Che sta per di Dolce Oh L'abbiamo conquistata Raga L'abbiamo conquistata Ehm Ci stiamo impoppinando La lingua si sta impoppinando Vedo Bene Ovviamente non sei Nell'umore Per una ghiacchierata Vero? Dell'umore Non nell'umore Per una ghiacchierata Ehm No Suppongo che avrai tante altre Cose piaccidenti da fare Ehm Veramente Sinceramente Però Ehm Non ti farò perdere altro tempo Signor Tripwood Ciao commentatore Ci si è impappinata la lingua Ehm Continuiamo a A emettere suoni senza senso Ciao Sei andata Sig Triste Ehm Eh già Vorrei tanto poter parlare con le donne Ah proprio non riesci a parlare con le donne E' tipo quello di Ben Ben Teori Va bene ragazzoli Allora Io vi ringrazio per la visione Vi invito a lasciare like e commenti Questo episodio lo chiudiamo qui Abbiamo ricoverato l'idolo favoloso Abbiamo la t-shirt Dobbiamo fare l'ultima prova Che è quella di diventare dei maestri di spada E ci proveremo nel prossimo episodio Detto questo ragazzoli Io vi ringrazio per la visione E ci vediamo domani con un prossimo video Bella raga Ciao Ciao